Negli episodi procedonti, Berri è stato accompagnato dai lupi per tutto il viaggio e poi è anche stato ammazzato da loro Ma cosa farai adesso? Scopri tolone, nuovo episodio di The Long Dark Hello, salve a tutti, sono Berri ed eccoci qui in un nuovo episodio Sì, probabilmente è registrato subito dopo il precedente, no, probabilmente è registrato subito dopo quello precedente Però, eh, beh, vediamo un po' cosa troviamo in queste cavolo di logcabins Per vedere se riusciamo a trovare sempre i newsprint roll perché qua nessuno lo legge il giornale, lo lasciano là direttamente Che cacchio se lo fanno arrivare a fare se non te lo leggi il giornale? Ok, stiamo trovando 20.000 robe per accendere il fuoco, ma niente da metterci sopra il fuoco Sia per quanto riguardi, possa riguardare cibo e robe varie Oh, 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 ciao, non te l'ho visto E, eh, legna vera e propria, però vabbè Comunque, adesso faremo un'altra cosa Dato che, eh, da quella parte è sempre piena di lupi Cioè, proveremo ad andarci magari se non ci sono, se ci sono i lupi Però, ce ne andiamo per dietro Sì, ce ne andiamo per dietro Verso la Alans Cave Per quelli di voi che la ricordano da due episodi fa Due episodi fa, sì E ce ne andiamo per di là Così da non incontrare l'ira dei lupi Spero che non ci sia lì l'ira dei lupi Spero di... no, però potrebbe esserci Chi lo sa, un backpack Non c'è un cavolo Digià E non abbiamo neanche iniziato Cacchiarola Ma nonché, nell'aggiornamento hanno tolto che le case danno più calore Cioè, scusami un attimo Ah, nemmeno iniziato Già sto congelando Oppure sono... il tempo oggi fa particolarmente schifo Ah, non ho idea Non ne ho la più quale idea Però, adesso proviamo ad andare qua No, mi sa che è oggi che il tempo fa particolarmente schifo Che si congela Quindi Ok, proviamo a vedere se qua ci sta qualcosa di utile Che poi è una stupidaggine il fatto di non poter accendere il fuoco nella casa Porca miseria Vabbè che è tutta a linea, però Sì, effettivamente si darebbe fuoco a tutta la casa Però, cavolo, è una situazione di vita o di morte Che te ne frega se la casa prende fuoco Cioè, ya Almeno stai al calduccio Comunque Ah, che Grazie Ma non c'è nient'altro Qui c'è qualcosa No Ma può essere che tipo è iniziato senza gli indumenti addosso No, ce l'ha gli indumenti addosso Perché io già sto congelando morto? Cacchio Non è mai iniziato Già sto crepando Non è una buona cosa L'iniziare morto Cioè Cavalacci amari Allora Adesso Mmm Non so se valga tanto la pena arrivare fin lì E poi tornare là Eh vabbè, proviamo lo stesso Perché tanto ormai Crepiamo ogni 5 minuti per stupidaggini Evviva Quindi Questa volta Proveremo a fare qualcosa di buono E non mi fanno mai arrivare a pescare Porca miseria Ah Ok, vediamo che c'è Allora Wood No Cliccato fuori la finestra Eh Ecco qua Un coltello Grande Sì Bisogna essere preparati a tutto Una line E un flare Scrap metal Grazie Ok, mi sa che Valeva la pena venire qui Ok New sprint Pot Allora Adesso Proviamo Ok Start fire A riscaldarci un attimo Perché qua non si va da nessuna parte Vediamo un po' se riusciamo ad accenderlo Attendo 10 ore Cioè sto crepando mentre aspetto che si accende il fuoco E ovviamente non va Vediamo wood matches New sprint roll Ci mettiamo pure l'accelerant Ah Adesso sicuro va Qui c'è la percentuale di successo che non avevo minimamente visto Però non fa niente Allora adesso Come fuel Non c'è un cavolo Come food possiamo fare questa Anzi facciamo Anzi facciamo Ecco ci serve cucinarlo Perché ci da Ci aiuterà con il calore Perfetto E poi Pogliamo un po' d'acqua Quella è quel 5 Quel mezzo litro che ho fatto prima Ok Adesso mangiamo perché non vorrei che la roba si raffreddasse Cold Opened Hit Mangiamo Bello Oh e adesso stiamo un po' più a calduccio Adesso facciamo un altro po' d'acqua Facciamo un altro mezzo litro d'acqua Melting snow Perfetto E purifichiamo un altro mezzo litro d'acqua Boiling snow C'è water Perché ormai è già water Non è più snow Oh perfetto Abbiamo altri 12 minuti Che vogliamo fare? Possiamo ballare? No Ok riscaldiamoci il sedere Ecco qua Così ci riscaldiamo meglio il sedere Andiamo un po' Sedere riscaldato a che stai Ok sì Ci stiamo riscaldando un bel po' il sedere E qua poi le calorie vanno vanno Non sto facendo niente Sono seduto Così Le calorie scendono Guardate come scendono Sono secondi Ogni due secondi scende una calorie Mamma mia Che roba esagerata Vabbè Tiamo comunque il fuoco Si sta quasi per estinguere Che bello Sono sopravvissuto 2 ore e 21 minuti Guarda sono bravo Ok 3 minuti 2 minuti Ok Iniziamo ad metterci in piedi E pronti Partenza Pronti partenza Via Sì Speriamo che non ci sia un simpatico lupo No, nessun simpatico lupo New sprint, grazie Dai, vediamo, vediamo, dai, niente Dai, 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 dai Scrap metal Dai, 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 dai Una mazzola Clemming boot, grazie Ora, non vedo niente sopra, non vedo niente La, corri, corri, corri Corri, 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 corri Corri, 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 corri Se non erro però ce n'è un'altra Subito dopo questa roba, vero? Andiamo un attimo Eh, esatto Corri, 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 corri Ovviamente c'è un cacchio di lupo Eh, o già sta congelando di nuovo, ma che cavolo Ah, ma non è possibile, sti lupi ci sono sempre, oh E se, e probabilmente a breve aggiungeranno anche gli orsi O già le hanno aggiunti, non ne ho idea No, no, mi sembra di no che non le hanno ancora aggiunti Però, a breve aggiungeranno anche gli orsi Quindi, eh, braccio dai familiari Eh Ma, 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 ma Ci stanno i lupi e mi ammazzano ogni 5 secondi Figuriamoci se ci mettono pure gli orsi Ci abbracceremo Con i nostri amici orsi Ogni 2 minuti E vai Ci abbracceranno così forte Però, da Strozzarci forse Perché si sa come sono gli orsi Se, non so se avete visto Coda, fratello orso Si abbracciano tutti quanti Quindi ci abbracciamo tra di noi E, beh, a volte si esagera un po' Vabbè Allora, basic gloves Ok Quindi Grazie Allora Il gran figlio di buona donna sta andando là Allora, io adesso metto qua E vediamo Se Where Mettendo i miei Mettendo la roba nuova che ho trovato Sto meglio Where Ok Adesso mi congelerò il culo Più lentamente Che poi, guardate Dove si va a mettere il lupo Si va a mettere Esattamente Dove devo passare io Guardate, mettevi là No Devi mettere là Annaggia Ma annaggia Chi ti fa campare Eh Come si usa qua Annaggia Chi ti fa campare Eh Annaggia Però ho anche un lupo scemo sordo Che Boh Cioè, non per offenderlo Non per offenderlo Però non Ci ho passato a fianco Un altro po' Il database Si aggiorna E aggiornati Non lo so L'antivirus Eh, il database Si è aggiornato Bravo Sto giocando però Non lo vedi Mamma mia Sta gente Interrompentolosa Ecco Interrompentolosa So Wow, 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 wow Oh Cristo Entra, 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 entra F***i Allora Antiseptico Siamo riusciti a sfuggire al lupo E mi fa male il braccio È stato proprio qualcosa Che è venuto dal cuore E mi fa male il braccio Ah Sono troppo vigore Nel mandare a fanculo I lupi E vabbè Allora Can opener Eh ma c'è sempre il can opener qua Sempre L'unica certezza Di questo gioco Che nella baita Dei canadesi Dell'ufficio canadese Troverai un can opener Che cos'è quella roba là sotto? Oh Una lente di ingrandimento Oh i miei occhi di falco Non lo indovineranno Ho trovato robe Ah 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 Qua immaginate che guaio Se tipo Fosse entrato anche lui però Vabbè Stutto della caccia Allora Vediamo un po' Che c'è qua C'è un droner C'è un cavolo nel droner No seriamente Devo andarmi a far vedere Il braccio Perché mi sa che me lo sono rotto Allora Qui non c'è niente Uh pain killer Proprio quello che servono Per il mio braccio Vieni qua Ok libro Bad roll Già ce l'ho Non mi serve questo O forse Tipo esistono Bad roll Migliori No Questo fa ancora più schifo Del mio Harvest Uh Dieci pezzi di clout Alla faccia però Ci sono voluti anche tipo Due ore Sono tipo morto di fame Mentre stavo Facendo sta roba Allora Mmm A cibo Che abbiamo Una lattina di sardine E basta No non mi serve Accendere il fuoco adesso Abbiamo una lattina di sardine E basta Ok Sono fortunato Beh Allora Sono anche Ah ok Non sono più Mezzo morto di freddo Allora Adesso ci Diamo una lattina Ok E andiamo a Ninna Resta Sì Resta un'ora Siamo un po' Ok mi sento Oh Che è stato Non è che il lupo è entrato Ha forzato la porta Boh Chi lo sa Oh Boh Si è preso una ballata Vincita su col lupo Riuscire a tenere sicuri Su sedere Si confrontano Nel prossimo episodio Di The Logger Hey 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 Se questo video vi è piaciuto Fatemelo sapere tramite un like Un commento Ma non per quella cosa Un milione di like Sono il più figo di tutti Oh yeah Ma semplicemente perché così capisco Se una cosa vi piace Oppure meno E Grazie per aver visto questo video Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao